A Canicattin, nell'Agrigentino, i poliziotti del commissariato coordinati dal vicequestore Cesare Castelli hanno arrestato un canicattinese di 23 anni, Vincenzo Lomanto. Gli si contestano le ipotesi di reato di detenzione di droga a fine di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lomanto, alla guida di una moto, avrebbe spacciato droga consegnandola direttamente ai clienti porta a porta. Quando una pattuglia gli ha intimato l'alt sabato sera, il 23enne ha proseguito la corsa. Ha travolto un poliziotto, è stato inseguito, acciuffato e sorpreso in possesso di 30 grammi di cocaina e 23 di hashish e alcune dosi già confezionate e pronte per essere vendute. I poliziotti gli hanno sequestrato anche 100 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Al poliziotto investito i medici hanno diagnosticato contusioni e traumi giudicati guaribili in 20 giorni. Questa mattina conferenza stampa del questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Non è tanto la vicenda sulla quale la persona è stata arrestata e se ne occupa la magistratura rispetterà la magistratura a fare le valutazioni. È l'esito della vicenda che ho visto ferito in maniera per fortuna non troppo grave 20 giorni di prognosi e chimosi, sfregiature, tutta la parte destra del corpo un po' ammaccata e graffiata per essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata con a bordo questo malvivente. Ma è un richiamo all'attenzione di tutti e tutti unitariamente perché queste cose avvengano sempre meno. Da un lato perché ci deve essere un'attenzione sempre maggiore da parte nostra, forze di polizia e apparato dello Stato, ma deve essere uno sforzo corale e uno sforzo con obiettivi comuni e ben definiti e contemporaneamente l'assicurazione da parte delle altre parti della società civile, non solo i cittadini ma anche le associazioni, gli enti locali, i comuni, le polizie locali, gli esercenti dei negozi e dei pubblici esercizi. Signori, quello a cui assistiamo, di cui spesso ci duoliamo, anche talvolta il fatto che i nostri figli, i nostri nipoti, i figli, i nostri amici hanno un gravissimo incidente, sono coinvolti in un fatto delittuoso particolare e ci sorprende perché non è nella loro indole. Domandiamoci perché avvengono queste cose, domandiamoci se certe abitudini che stiamo consentendo di maturare nei nostri giovani siano abitudini sane. Se, come è capitato a me ieri sera, ve l'ho detto, rientravo a tarda notte, erano oltre le due e passavo qui sotto, sotto la questione, nel pieno centro e ho visto tre ragazze di un'età compresa tra i 15, i 16, i 18 anni, non di più, tutte e tre barcollare e a un certo punto ha iniziato a vomitare la prima, ha fatto così la seconda e anche la terza. Signori, si tratta di minori, lo ricordo ai genitori e a tutti i genitori, ed i minori che stanno in quelle condizioni in piena notte. Non va bene, nel nostro contesto normativo c'è un obbligo in capo ai genitori o a chi ha funzioni di patria potestà o esercita funzioni di garanzia nei loro confronti a sorvegliare la loro attività.